Buonasera Paolo, buonasera agli amici a casa. Anche questa settimana il nostro regista Andrea Lombardi ha trovato una location bellissima. Dove siamo? Siamo alla Madonna della Costa e vediamo il mare, vediamo il Porto Sole, vediamo tutto Sanremo alle nostre spalle. È l'ottava location che abbiamo scelto per voi per questa nuova stagione di Sport TV. Vi invitiamo sulla pagina Facebook Sport TV a votare quella che vi è piaciuta di più e se vorrete anche a indicarcene qualcuna di nuova. Qualcuna di nuova dove possiamo andare, un angolo bello di Sanremo. Ce ne sono tanti. Invitiamo a votare l'angolo più bello che abbiamo fatto finora. Siamo partiti dalla pista ciclabile, siamo andati a Porto Sole, siamo andati sul terrazzo dell'Aristo, allo Zampillo, in via Matteotti. L'abbiamo vista un po' da tutte le angolazioni, è la nostra bellissima città. Bene. Va bene. Settimana all'insegna della Nazionale con un'Italia Albania in cui poi alla fine ha avuto ragione età vecchio. Ci si lamentava tanto che questa amichevole al Ferraris sarebbe stato un atto di autobeneficienza dei genovesi. In realtà 20.000 albanesi allo stadio, dunque grazie al popolo albanese. Sì, grazie a loro che hanno pagato. Da vecchio ci aveva visto a lungo, nonostante le critiche. Però io tornerai un attimo indietro con la Croazia. Con la Croazia. Per dire che è uno schifo, è stato uno schifo il pubblico. Ma come fai io? Ma quello croato. Ma il croato, sì. Il croato e i croati che hanno buttato in campo di tutto. Come fai ad entrare a San Siro con tutta sta roba? Io l'ultima volta che sono andato mi hanno levato il cappello per vedere cosa c'avevo sotto. E non hanno trovato nulla. Niente, ma le dico, ero io e mia nipote, pensa a te. E questi qua hanno fatto entrare di tutto, di tutto allo stadio. È bellissimo perché fra gli italiani i controlli si spingono anche fino ai bambini, no? Viene negata la bottiglietta di plastica. Ti fanno levare addirittura il tappo. C'era già stato il precedente d'Italia-Serbia-Genova, ricordi, con Ivan il Terribile. Mi è passata la voglia anche di andare allo stadio. E poi invitano a andare le famiglie, a andare i bambini. Ma come si fa? Ma non è tutta colpa degli steward, no? No, no, no. C'è qualcosa forse più a monte che non funziona. Senz'altro, senz'altro. Va bene. Però io invece voglio fare un passo avanti con te e andare alle dichiarazioni del post partita di Italia-Albania di Conte. che forse sono quelli che hanno fatto più rumore al di là della prestazione, no? Eh sì, perché l'hanno lasciato solo. Come la giudichi questa conferenza stampa? Cosa vuoi che si giudichi? Questa sagra dell'incoerenza. Ha capito com'è l'entourage della nazionale. Ma l'ha capito adesso? È una novità dell'ultimo anno? E poi Ballottelli. Quando ha firmato il contratto la situazione era più rosea? Ballottelli hanno già provato tutti gli allenatori migliori d'Europa. Ma io mi chiedo, se non vuoi che si parli di Ballottelli? Non convocarlo. D'altronde non lo meritava neppure. Eh vabbè, la nazionale è quella. E il fatto che se non cambia tutto qua vedremo come è l'ultimo mondiale. Una nazionale così, deludente. E poi un po' stucchevole attaccarsi allo score. Cinque vittorie e un pareggio quando sono arrivate con squadre del calibro di Azerbaijan, Malta, Albania. Con tutto il rispetto. Poi appena alzato leggermente l'asticella, il livello della squadra affrontata, Croazia, abbiamo sofferto e abbiamo visto tutti i limiti che si sono denotati. Abbiamo subito il possesso palla per 80 minuti della Croazia. E vabbè dai, vediamo il nostro sommario che stasera è molto... Molto ricco, nonostante per la seconda settimana consecutiva abbiamo dovuto avere a che fare con il maltempo, con l'allerta 2. Siamo andati sui campi di calcio a 5 e anche in quelli in cui si è disputati i campionati giovanili. Poi pallavolo, tennis, vela e judo che saranno le discipline che toccheremo questa sera. Ma noi apriremo però con un fatto di cronaca perché purtroppo qualche danno si è avuto anche qui in provincia di Imperia alle strutture sportive e il nostro tour purtroppo oggi comincia con Riva Ligure. Dobbiamo quindi doverosamente inaugurare questa puntata parlando della recente alluvione e dei danni che ha provocato appunto al campo di calcio A7 a Riva Ligure che è stato letteralmente devastato dalla furia del torrente Caravello. Non nel momento di massima piena che ha invaso pure il campo ma nel momento della ritirata delle acque che ha fatto venire giù il muro letteralmente. Noi andiamo a vedere questa situazione e la poniamo alla vostra attenzione cercando di appunto dare il risalto che merita questa situazione per poter anche dare una mano concreta al gruppo sportivo Riva Ligure. Diciamo che la pioggia forte dalle 9 e mezza alle 10 ed è stato il momento che dal fiumiciatto che c'è è arrivato a 5 metri e il tempo di entrare. Dopo mentre defluivano le acque piano piano insomma quando ha finito di piovere stava calmando tutto e a un certo punto è caduto il muro, scoppiata la trovatura del gas, un po' di panico e il risultato è quello che c'è adesso. Chiaramente tutta l'attività del settore giovanile ne risentirà. Sì anche se noi stiamo cercando di trovare una soluzione alternativa ma dobbiamo concordarla col comune e l'amministrazione perché poi è una questione di responsabilità. Se riusciamo a mettere in sicurezza la zona metà campo potrebbe essere agibile e poi abbiamo una struttura di un campo a 5 qua delle scuole elementari dove potremmo spostarci con un gruppo di squadra e poi ci sentiamo in serata con gli amici del Santo Stefano, magari un gruppo di squadra va là e riusciamo a gestire la situazione. Spero momentanea. Cosa si auspica che possano fare anche le istituzioni per rimettere a posto questa situazione? La volontà di farlo nel più breve tempo possibile. La disponibilità mia è di tutta la gente che mi ha telefonato, contattato in vario modo sia economica che di manovalanza per collaborare per quello che possiamo fare noi perché insomma abbiamo tante cose in programma visto che quest'anno è il trentesimo anno della società noi siamo attivi sui tornei come magari te ben sai a giugno dove quest'anno hanno partecipato 15 squadre professionistiche e io ci terrei ad avere dei tempi certi per poter organizzare questa manifestazione. Abbiamo visto anche queste immagini che purtroppo penalizza questa società adesso per le attività giovanili. Ringraziamo il Vicepresidente Minasso per la sua disponibilità, per la sua gentilezza. Non è facile ma noi siamo al loro fianco e auguriamo ovviamente di cuore un in bocca al lupo a tutta la società Granato. Speriamo che risolvano questo problema. E passiamo alla vela perché già domenica mattina i giovani dello Yacht Club Sanremo si sono cimentati in duri allenamenti in vista degli ultimi impegni stagionali. Andiamo così a rispondere alle cattive condizioni meteomarine. Noi cerchiamo di uscire in mare per fare l'allenamento per questo fine stagione 2014 cercando di fare le ultime regate al meglio e con i ragazzi preparati. Purtroppo per il maltempo è stato rinviato West Liguria. Oggi faremo particolare attenzione alle condizioni del mare e quant'altro fuori e cercheremo di fare il massimo per quello che ci compete. Condizioni comunque allenanti in vista degli ultimi impegni stagionali? Condizioni allenanti in vista degli ultimi impegni e non solo. Visto la stagione prossima che ci vedrà impegnati in quattro regate nazionali per le qualifiche al campionato del mondo, al campionato europeo dove cercheremo di dare il 110% sia io che Fernanda in collaborazione ovviamente con il circolo e con i ragazzi e con tutto quello che riescono a fare loro, le famiglie e tutto quello che c'è intorno. Qual è il programma tipo di una giornata come questa? Una giornata come questa con questo vento all'inizio facciamo una mezz'ora di riscaldamento divisi in diversi gruppi per riuscire ad avere una qualità migliore e dopodiché, sì, mezz'ora, un'ora, loro che si riscaldano, si abituano alla onda, alle condizioni mettono la barca a posto per queste condizioni, ci ritroviamo tutti insieme e facciamo delle piccole prove di allenamento tutti insieme. Se non c'è il divieto di uscire cerchiamo sempre di approfittare di tutto il tempo che abbiamo con i ragazzi in mare. Dallo Yacht Club al mare che possiamo ammirare qui dalla nostra terrazza privilegiata che domenica poche ore dopo il termine dell'allerta meteo erano già pronti a sfidare le onde abbiamo visto un mare, avete visto il colore veramente un marrone tendente all'ocra pieno di rifiuti, di detriti, un mare difficile che però abbiamo visto, è stato domato. C'era anche un mare mosso che ha messo in difficoltà parecchie barche noi abbiamo riprese comunque, no? Eh sì, eh sì, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto. Bellissimo, benissimo. Bene. Passiamo adesso al judo. Sì, andiamo all'indoor perché anche il 2014 il judo volgerà al termine con una serie di importanti gare a carattere regionale e nazionale e uno dei club portabandieri della nostra provincia è il Sakura Armaditagia che è già pronto con i propri allievi a raccogliere gli ultimi allori stagionali. Abbiamo appena ripreso a settembre e siamo già in piena attività con l'attività giovanile e con tutta l'attività degli agonisti. Abbiamo fatto due gare giovanili come attività giovanile ottenendo buoni risultati ma non cerchiamo i risultati ma cerchiamo sempre quello spirito di formazione per i bambini e i ragazzi. Vengono i risultati perché loro sono bravi e si impegnano e con gli agonisti stiamo facendo una buona attività regionale per il momento e il prossimo 6 dicembre andremo a Roma con una finale nazionale con Lecci-Ginevra che si è qualificata per i campionati italiani esordienti B. Ora saremo impegnati anche con il torneo Luigi Sicco a Savona il 30 di novembre e con la squadra agonistica stiamo preparando i campionati regionali domenica prossima a Genova che è la festa più importante della stagione come chiusura del 2014. Dunque è una stagione che viene archiviata con successo e con soddisfazione? Fino adesso sì, molta soddisfazione anche perché abbiamo già portato 4 finalisti nazionali nei cadetti con Francesco Cinquepalmi, Chirico Nicolò e Spiri Fabiana e con De La Torre e Samuele nella categoria Juniors il quale si è classificato al quinto posto mentre nei cadetti non abbiamo avuto piazzamenti di rilievo in quanto poca esperienza e a livello nazionale ce ne vuole tanta. Questa domenica ha un test importante? Sì, è molto importante questa gara perché sono le qualificazioni regionali e spero che vadano bene. Su cosa devi ancora lavorare secondo te? Sul randolo in piedi secondo me devo lavorarci di più sul randolo in piedi che su quello a terra. Abbiamo parlato di judo Paolo ma tu hai la testa fra le nuvole. Con il maestro Alberto Ferrigno dove c'è la testa? Lo stanno vedendo tutti i nostri amici a casa, è inutile che lo neghi. Sono qua, sono qua, ben presente. Non fare come conte. Adesso passiamo al calcio a 5, insieme a mister Franco Basta andiamo a scoprire l'impegno cui sarà sottoposta questa sera all'ospedale e ti calcio a 5 nel proprio stadio. Vediamo il servizio. Dopo la sosta forzata dello scorso weekend si torna in campo, turno di campionato insidioso contro il Pliamar. Sì, loro sono ben messi in campo, giocano molto in velocità. Di conseguenza il problema grosso sarà resistere al loro forcing. faranno, sono tutti giovani, corrono, non giovanissimi ma giovani, comunque quindi corrono e ci verranno a pressare. Vedremo, lavoreremo su un paio di uscite pressing questa settimana proprio per evitare il rischio pressing loro. Vedremo. Noi è peccato aver fatto questa pausa perché viene nel momento sbagliato, è venuta in quanto la squadra giocava bene, avevamo trovato finalmente il ritmo, avevamo trovato giocate. È un po' un peccato. Squadra che avete già affrontato in Coppa, Savona fu 1-1, qui a Ospedaletti 3-3. Sì, appunto, sono stati due pareggi e quindi speriamo questa volta veramente di far bottino pieno e ogni volta i pareggi dove loro erano davanti. Speriamo di andare davanti noi e metterli in difficoltà perché loro tutte le volte sono stati in vantaggio, qui addirittura 3-1 fino a 5 minuti dalla fine, poi siamo riusciti a portare a casa perlomeno un 3-3, tutte e due volte nel recupero, tutte e due volte con bianco, una a un minuto dalla fine del recupero e l'altra a 30 secondi dalla fine del recupero. Infatti è messo a palla al centro e poi ultima azione definita la partita. Speriamo questa volta invece di portarla a casa, anche perché sulla carta, visti i giocatori, potremmo tranquillamente portarla a casa. È che non capiti qualcosa a livello di testa e che ci blocchi, tutto questo può essere il problema. Avanzano minacciose le nuvole sopra di noi, no? Le nuvole sopra di noi, sì. Come si chiama quella vetta che il nostro regista sta inquadrando? Non arrivano qua, San Romolo, su Monte Bignone, Monte Bignone è a su dove ci sono le antenne. Esatto, esatto. Nove in geografia a Paolo. I ponti, i ponti. Nove in geografia a Paolo. I ponti. Ma le nuvole non copriranno mai la luce dei nostri sponsor, che sono sempre più numerosi, se ne aggiungono ogni settimana di nuovi. Fra Bosa Sottana, all'Albergo Italia, dove è andata... Fino a Cuneo ci vedono. Perché fino a Cuneo, poi lì, Fra Bosa Sottana, all'Albergo Italia, sono andate molte squadre giovanili di Sanremo a fare l'allenamento, anche squadre tedesche. Sì. Genova, Sampdoria, è una località molto bella. Ridente, direi. È un posto adatto per le squadre di calcio, per i ritiri. Esattamente. E poi l'Hotel Marinella, che col suo ampio salone può fare banchetti fino a 300 persone. Quindi si va a mangiare lì e si organizza anche le cene. C'è lo Juventus Club che organizza la cena lì. Come si diceva un tempo, consigli per gli acquisti, per i nostri teleascoltatori, telespettatori. Dobbiamo ringraziare anche questi sponsor. E per tutti i nostri giovani all'ascolto, giovani e meno giovani, che sono anche protagonisti dei nostri servizi, come quello che vi stiamo per andare a presentare sul calcio giovanile. Bravissimo. Andiamo quindi a continuare il nostro viaggio all'interno del settore giovanile della Carlin Boys. Questa settimana tocca la scuola calcio. Ascolteremo il responsabile della stessa Maurizio De Luca e, come sempre, Antonio Consiglio, in qualità di supervisore di tutta l'attività. L'attività. Bene, vai pure, Regine. Andiamo alle radici del settore giovanile della Carlin's, presentando la scuola calcio. Sì, la nostra scuola calcio oramai è conosciuta da anni. È una scuola calcio ben organizzata, con istruttori del calibro di Maurizio De Luca, storico capitano della San Remese, che oramai da parecchie anni si interessa di pura scuola calcio. Giorgio Tognolo, Marco Stella e Rocco Fava. Sono quattro tecnici della scuola calcio preparati, che si occupano solamente di quello lì. La scuola calcio viene svolta il martedì e il sabato mattina, martedì dalle 17 a 18.45 e il sabato dalle 10.30 a mezzogiorno. Per questi 50 bambini si tratta proprio di un avviamento ludico al gioco del calcio? Assolutamente sì, solamente ludico e con una piccola eccezione l'ultimo anno, in questo caso il 2007, con l'istruttore Marco Stella che già li prepara per l'anno successivo al mini campionatino che facciamo. Già lui gli dà un'impronta di come stare in campo. Continuiamo a scoprire i segreti della scuola calcio della Carlin's assieme al responsabile del settore, appunto, Maurizio De Luca. La scuola calcio è un'attività prettamente ludica con un indirizzo calcistico. I bambini che vengono qui svolgono appunto questa attività dove il gioco è l'anima dell'attività che viene svolta ed è chiaro che in questa attività, dato che si chiama scuola calcio, ci sono dei principi fondamentali che riguardano il gioco del calcio. Quanto è importante la parte della formazione, della personalità e del carattere? Direi che è preponderante nel senso che questa è un'attività di gioco ma che comunque va normata e nell'applicazione delle norme comportamentali c'è un crescimento della personalità, dell'educazione. Oltre all'educazione familiare c'è questa educazione calcistica che contribuisce sicuramente alla formazione dei futuri ometti della scuola calcio. Si dice che questi ragazzini, questi bambini del 2000 siano iperattivi, questo è un punto a favore o un punto a sfavore nello svolgimento dell'attività? No, è sicuramente un punto a favore perché io penso che i bambini oggi come oggi giocano veramente poco perché si fanno otto ore di scuola, poi dopo ci sono altre attività che magari possono essere impegnative tipo musica o altre cose per cui arrivano al campo che hanno veramente bisogno di giocare ed è soprattutto la gioia del gioco che qui devono scoprire, manifestare e esprimere. Canta, canta Paolo, canta! Cosa canto? Canto! Abbiamo visto anche i piccoli calciatori, la scuola calcio di Maurizio De Luca, ex giocatore a San Revisi. Dobbiamo ringraziare anche la Dima come sponsor e l'Istituto Galilei di Arma. Sì, assolutamente sono d'accordissimo, i nostri preziosi sponsor. E adesso passiamo al volley, la presentazione di tutti i match e di tutti i campionati che riprenderanno questo weekend dopo la pausa per il maltempo è curata per noi dall'inossidabile Cesare Fagnani che oltretutto ha compiuto gli anni. Auguri Cesare! Auguri da tutta la redazione. Quanti sono? 28 o 29? 29 anni. Ci perdonerai questa imprecisione. Auguri da tutta la redazione e anche da Andrea Lombardi. No, dice che non vuole partecipare. Ciao, gli ha detto ciao. Sentiamo Cesare Fagnani. Nell'ultimo weekend i campionati regionali e provinciali sono stati sospesi per le avverse condizioni meteo che hanno colpito la Liguria. Pertanto in questa puntata parleremo di classifiche e delle gare in programma domani e domenica. Campionati regionali, Serie C femminile. Dopo quattro giornate le grafiche Amedeo Sanremo sono al primo posto con 11 punti, seguita è dal Sertecco Genova con 10. Domani saranno impegnate a Voltri con il Volare Volli. Anche in D femminile siamo la quarta giornata. La nuova Lega Palavolo condivide il primo posto con il Loano a 10 punti. E domani ore 18 Ormond sarà opposta al Planet Savona. La pizzeria Solentiname Sanremo, terza in classifica con 8 punti, giocherà a Cittera domenica ore 19.30 con il Virtus Sestri. La Maurina Strescino, quarta a 7 punti, domani sarà ospite del Celle Varazzi. Una coppia al vertice della C maschile dopo due giornate. Spedia Volli e Grafica Amedeo con 6 punti. Domani a Ormond ore 21 le grafiche ospiteranno l'Admo Lavagna Volli. Anche la D maschile è alla seconda giornata. Al comando la coppia Primavera Imperia ed Albenga con 6 punti. Domani in primavera sarà ospite a Savona del Planet Volli, mentre l'Albenga domenica giocherà a Dormon ore 19.30 con Fincon Petroli Sanremo, attualmente al terzo posto con 3 punti. Campionati giovanili, under 18 femminile. Dopo 5 giornate, Club 64 Sanremo è al primo posto con 15 punti. Seguono Golfo Diana Volli e Salis Ventimiglia a 12. Sono invece alla prima giornata i campionati di under 16 e under 14 femminili e under 17 e under 15 maschili. Di questi parleremo più diffusamente nella prossima puntata. Concludo segnalando un'importante manifestazione di mini volley che apre la stagione promozionale di pallavolo. Domenica nel Palazzetto dello Sport d'Imperia si svolgerà il torneo di San Leonardo. Al mattino a partire dalle ore 9.15 le categorie primo livello anni 2007-2008 e secondo livello anni 2005-2006. Al pomeriggio dalle ore 14.15 la categoria under 12 anni 2003-2004. La manifestazione a cui parteciperanno più di 150 bambini è organizzata dai comitati provinciali FIPA e CSI in collaborazione con la compagnia di San Leonardo. Io ringrazio la redazione di Sport TV per gli auguri ma soprattutto perché non hanno detto la mia età. Abbiamo visto Villa Citera, abbiamo visto Villa Ormon e adesso siamo su Villa Vigo. Villa Vigo. La città delle ville, non solo dei fiori. E senza altro, senza altro. Bene Paolo, allora noi possiamo andare avanti. Abbiamo sentito Cesare Fagnani che ci ha dato tutte le delucidazioni sul weekend di pallavolo che ci si prepara a vivere. ma noi andremo anche sui campi in terra rossa. Cesare Fagnani è un po' come il vino. Più invecchio è più duro. È vero o no? A che vino potremmo paragonarlo? È un bel nebbiolo, un bel nebbiolo. Bene, bene, dopo questo momento culinario... Passiamo al tennis. Passiamo al tennis. Stavo dicendo che questo weekend saremo anche impegnati sui campi in terra rossa, in terra battuta degli amatori tennis armesi perché seguiremo le semifinali di Coppa Bonici proprio fra la squadra armese e il Park Genova. Noi, come al solito, abbiamo ascoltato il capitano, nonché detentore del titolo, Massimiliano Conti. È un match tutto da vedere. Invitiamo il pubblico ad andare numeroso. Da vedere dove? Da vedere da noi, su Sport TV, ma anche seguirli al campo di arma. E intanto la presentazione. Sentiamo. Domenica sui campi dell'amatore tennis armesi la semifinale di Coppa Bonici contro il Park Genova. Una sfida molto, molto difficile. Sì, siamo arrivati, bisogna precisare, dopo averla vinta lo scorso anno, di nuovo comunque abbiamo passato il girone molto duro e ci è capitato in semifinale il Park di Genova che diciamo che sulla carta è la squadra favorita di quest'anno, per quest'anno. però siamo convinti di giocarcela come sempre. Anche l'anno scorso, quest'anno, ricordo, contro il TC Genova in Serie C partivamo sfavoriti, però poi abbiamo fatto un incontro incredibile e siamo passati noi. Quindi siamo motivati, felici di giocare in casa, perché per noi giocare in casa è un punto di forza. I tifosi alla Darsena sono molto preoccupati, hai superato i tuoi acciacchi? Diciamo che in questo momento sono influenzato, poi ho ancora problemi al braccio, però un po' di mal di schiena, però come si suol dire la barba è bianca, quindi un po' di esperienza magari riuscirò anche a metterla. E poi comunque siamo in buone mani perché ci sono i soliti bellomi Alessandro, Luca Moretti e poi la maestra Martina Olivera che è una garanzia, per il momento non lo dico. Comunque è andata molto bene. Quali le maggiori insidie del match di domenica? Loro sono comunque una squadra veramente forte, perché il Parca Genova è sempre stata una squadra forte in tutte le competizioni, però noi appunto giochiamo in casa, il tifo come è successo l'anno scorso in Serie C ci ha dato una mano grandissima, anche se giocavamo con una squadra fortissima, quindi sarà un punto di forza a nostro favore e chiunque giocherà al singolo sicuramente sarà un match duro, però se noi siamo avvantaggiati proprio dal tifo per fare magari imporire un po' gli avversari e poi tutti gli incontri sono aperti, sia il singolo sia il doppio, non si vedrà domenica, non si sa, tutto il 50%. Addio Alessandro, sempre volenti! Ciao! Ciao! La nostalgia canaglia della nostra regia che va a inquadrare i luoghi dove abbiamo già registrato le precedenti puntate di Sport TV. E dove abbiamo il nostro yacht, è ancora ormeggiato là, tranquillo, non si muove. Finché noi siamo qua non si muove. Multe accatastate sul lunotto, Paolo, occhio! Allora ricordiamo YouTube, Facebook... Ricordiamo il nostro canale YouTube, Redazione Sport TV con l'accento sulla i e anche la pagina Facebook Sport TV dove, abbiamo già detto, potrete votare le location che abbiamo scelto per voi, per le puntate di Sport TV e anche indicarci dei suggerimenti per le prossime. E prima di mandare l'ultimo servizio, l'ottavo, facciamo due pronostici. Due pronostici, torniamo... Atalanta-Roma. Atalanta-Roma, due. Due. Tu? Lazio-Juve, io X. Lazio-Juve, uno. Eh, lo sapevo già. Tu? Milan-Inter. Tu non ti nascondi, Paolo? X, sì, io 3X ho dato. Ah, 3X. Milan-Inter, due. Due. Mamma mia, mamma mia! Occhio, eh! Anche se sei guardato il mezzo busto, possiamo sempre scendere di qualche centimetro. Proseguiamo, allora abbiamo l'ultimo servizio, proprio col coordinatore dell'Inter Club regionale. Claudio Restelli. Claudio Restelli. Un parere autorevole sul momento che sta attraversando l'Inter, no? Eh sì, poi l'evento che questa settimana, la cacciata di Mazzari, è arrivato Mancini, Roberto Mancini, che noi tutti amiamo. Non si è voluto esporre però sul risultato del derby, eh? Però c'è tornato il sorriso a noi tifosi interisti, perché vedremo finalmente giocare la squadra come si deve. Magari non vinciamo, però la vedi giocare. Comincia a mettere le mani avanti, questo è l'atteggiamento giusto. Come Conte, sei come Conte, l'hai odiato come allenatore della Juve, ma sei come Conte. Va bene, comunque lasciamo i telespettatori all'ultimo servizio. Se siete arrivati tardi e non avete visto la prima parte della puntata, ricordate le repliche alle ore 23.20 e alle ore 13.10 il sabato. Dunque... Sempre sul canale 216 Tele Sanremo. O www.telesanremo.tv con live streaming, che è una novità delle ultime settimane. Se invece siete ancora più distratti e non siete riusciti ancora una volta a vedere la puntata, pagina Facebook Sport TV, l'abbiamo già ricordata, redazione Sport TV, il canale YouTube. Anche lì trovate tutto. E mi raccomando, votate, votate la lorche sia un migliore che vi piace a voi, l'angolo di Sanremo che vi è piaciuto di più. E adesso la parola a Claudio Restelli. Buona serata, a presto, buon weekend. In questi casi l'allenatore paga per colpe proprie, ma anche probabilmente della società, dell'ambiente, dei giocatori. Paga l'assenza di risultati, la difficoltà di gestione di questo gruppo che sembrava un pochino allo sbando e soprattutto paga questo feeling mai scattato con la tifoseria e lo stadio lo dava atto perché praticamente nelle ultime partite, soprattutto nelle ultime partite, c'era un preoccupante decremento delle presenze allo stadio, oltre alla contestazione dell'allenatore. A Sanremo abbiamo sempre visto l'Inter al torneo internazionale arrivare fino in fondo, mettendo in mostra giovani interessanti, però poi alla fine dei conti in prima squadra non ci arrivano in molti. Forse anche la scelta di Mazzarri non era proprio in questa direzione. Sì, lui diciamo che dal punto di vista di valorizzazione dei giovani non è mai stato, anche l'anno scorso, se vi ricordate, Kovacic lo faceva giocare molto alla fine, alla fine del campionato, quando c'è stata tutto l'anno la pressione da parte della società di farlo giocare. I giovani, quest'anno c'è una primavera fortissima dell'Inter che sta avendo dei risultati incredibili e molti di questi ragazzi fanno già parte del gruppo della prima squadra, Puskas, Buonazzoli, Camarà, però chiaramente lo spazio era minore per loro. Vedremo Mancini, di solito i ragazzi li ha sempre più valorizzati, li ha sempre fatti giocare. Vedremo anche il cambio di modo, adesso siamo all'inizio, ma una cosa sicuramente, devo dire anche, e questo lo vedo già nei miei club, ha riportato grande entusiasmo. I risultati vedremo, ma l'entusiasmo c'è, naturalmente c'è tanto entusiasmo per questa figura, questo allenatore che comunque con l'Inter ha vinto tanto. È un allenatore che conosce l'ambiente, perché secondo me, lui ha detto giusto anche in conferenza stampa, quando io sono arrivato all'Inter mi sono messo lì, ho avuto il buon senso di allenare questi grandi campioni, ma poi facevano loro, nel senso l'Inter non è una squadra, oltre ad allenare è da capire, e tu devi conoscere l'ambiente. Se conosci l'ambiente e ti integri con l'ambiente, puoi far bene, lui conosce perfettamente l'ambiente Inter. Grazie a tutti.